E' entrato oggi in vigore il nuovo DPCM di ottobre che per la provincia di Pesorurbino, così come per tutta Italia, impone nuove regole per tante attività lavorative, per la scuola e per le serate di svago e intrattenimento. Regole calibrate al fine di realizzare ogni misura adatta al contenimento del contagio da Covid-19. Una delle principali novità annunciate domenica sera dal Premier Giuseppe Conte riguarda il potere che viene conferito alle autonomie locali in tema di chiusure. Saranno infatti i sindaci a poter disporre di chiudere l'accesso al pubblico alle ore 21 di vie o piazze reputate più congestionate e a rischio assembramento. Sempre sotto la lente di ingrandimento, la scuola dove negli istituti superiori non si potrà entrare in classe prima delle 9 con ingressi e uscite degli edifici scolastici che saranno rimodulati su una fascia oraria più ampia che consenta accessi scaglionati prevedendo anche l'utilizzo di turni pomeridiani. Non cambia il trasporto pubblico, confermata la capienza all'80% dei mezzi. Il lavoro invece nel settore pubblico alzerà drasticamente lo smart working con un forte incentivo al lavoro a distanza anche in ambito privato dove saranno limitati al minimo indispensabile i meeting in presenza. Dunque ampio ricorso alle videoconferenze. Per quanto riguarda la ristorazione non si potrà stare in più di sei persone al tavolo. Ristoranti per i quali resta imposta la chiusura a mezzanotte. Per bar e pub si fermerà invece alle 18 la somministrazione di cibi e bevande al bancone o all'esterno. Dalle 18 alle 24 i clienti vengono comunque serviti soltanto al tavolo. Ora gli esercenti di bar, ristoranti e pizzerie avranno anche l'obbligo di affiggere all'esterno un cartello recante il numero massimo di persone che possono essere ammesse all'interno del locale. Vengono sospese le fiere e le sagre locali ad eccezione di quelle di dimensione nazionale. Lo stesso dicasi per congressi e convegni ad eccezione di quelli con modalità a distanza. Le attività di sale giochi e sale scommesse saranno invece consentite solo fino alle 21. Non ci saranno limitazioni per le attività di parrucchieri ed estetisti. Al contrario sono sotto esame, palestre e piscine. Il DPCM assegna infatti a questi centri sportivi una settimana per allinearsi a tutti i protocolli. Un settore che probabilmente sarà monitorato con controlli ancora non ben decifrati nelle modalità ma sui quali ci si tornerà la prossima settimana. Già deciso invece lo stop allo sport amatoriale. Niente partitella basket, calcetto, niente gare e competizioni nell'attività dilettantistica di base. Sospese tutte le attività di contatto ludico amatoriale, consentiti gli allenamenti in forma individuale.